ok sera raga eccoci live final bet su youtube raga bella a tutti bella bella a tutti raga bella bella a tutti bella wav bella jeffy dry bella luca bella christian bella danilo bella giochiemer 82 bella vincenzo bella a tutti bella 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 a tutti raga vi raccomando lasciate subito un bel like se volete partecipare bella flame bella bomber bella a tutti raga bella falcon ok raga bella a tutti raga vi affidrai scammo va bene esci dalla live fra nessuno ti sta obbligando stai live poi se vai a guardare le mie storie in evidenza su instagram puoi vedere che ho sempre regalato le skin visto che mi ha detto scammo puoi andare anche a farti fottere bye bye allora ragazzi ovviamente darò la precedenza agli abbonati donatori quindi se volete abbonare il canale primo link in descrizione punti sulla tvd posso fare l'uno più uno solo quelli da console perchè se no sarebbe easy raga vincere la skin ovviamente raga dovete lasciare like essere iscritti al canale con la campanellina attiva allora vi do 5 secondi per iscrivervi al canale per lasciare like per attivare la campanellina su tutte le notifiche se volete fare l'uno vi uno 5 4 3 2 1 0 ragazzi vediamo vediamo chi ha lasciato like chi si è iscritto al canale ecco su edx posso posso fare certo web già fatto bella francesco bella bella a tutti raga bella francesco longo raga lasciate un bel like alla live se volete partecipare vi raccomando raga bella lori l'ho fatto cosa io tanto lo so che non prima abbonati e poi spectre normali faccio un abbonato uno spectre così raga per cui vi ho dimandato la richiesta bella fra però raga dobbiamo essere in tanti quindi condividetela raga condividetela live con tutti i miei siti ancora non l'avete fatto bella iris e non posso farci niente ecco c'è raga ormai ci ho perso le speranze a fare live ogni volta ci si spettatore ci ho perso la ci ho spesso le speranze bella svittimi raga aspettate un attimo raga turno fate tutti uno di uno un attimo solo raga dovete aspettare due secondi cazzo stoffa aspettate che ho sbagliato a bella a tutti raga bella allora ovviamente raga adesso metterò la parola in chat il primo che scriverà la parola farà l'uno vi uno ovviamente ragazzi come già vi ho detto dovete essere iscritti al canale aver lasciato like la live e soprattutto aver attivato la campanellina su tutte le notifiche vi raccomando raga non fate i birichini eh eseguite tutti le regole raga non fate i furbetti vi raccomando allora io metto un attimo miglioro un attimo la descrizione della live così iniziamo a fare gli uno vi uno ovviamente prima mi dovrò riscaldare perché se no vincete easy raga allora live fortnite una visuna regalo skin ecco fatto vi raccomando condividete la live con tutti i vostri amici per far provare anche i vostri amici per a far vincere la skin eh let's go raga no la regalo io raga la regalo io hai visto che l'acquisto che ho fatto con il grande francesco grazie mille bella son goku ma ti dico solo da non serve farlo uno più una edo eh visto che mi distruggi resta in chat tanto non lo farai mai l'uno vi uno raga tutti quelli che insultano non faranno mai l'uno vi uno quindi è inutile che dite posso fare l'uno vi uno non lo farete mai l'uno vi uno lol mica perché mi insultate io vi do la precedenza non sono un bambino raga non sono uno di quei bambini che appena vede uno che insulta in chat lo invita subito a fare l'uno vi uno non sono uno di quelli quindi è inutile bello madò che gente ho raga ma chiudetele in cantina sto 08 zesco chiudetele in cantina che mi sa che l'hanno fatto scappare i suoi genitori allora dimmi francesco posso farlo dark no precedenza abbonati e donatori raga quindi se ci sono abbonati avranno la precedenza adesso io scrivo la parola in chat e prima che la scrive fare il provino e il provino vabbè l'uno vi uno lol il provino raga ok raga riaccomi un attimo raga due secondi arrivo intanto vi lasciate like iscrivetevi al canale se siete nuovi fra poco scelgo un ragazzo e gli faccio l'uno vi uno e allesco raga grazie a tutti ok raga riaccomi tornato allora raga comunque raga se volete abbonare al canale primo link in descrizione vi ricordo che gli abbonati avranno la precedenza quindi raga un motivo in più per abbonarvi ovviamente non obbligo nessuno ogni donazione che verrà effettuata in questa live sarà investita per comprare il pc ovviamente non obbligo nessuno a donare raga però se donate supportate il mio canale mi aiuterete a comprare il pc anche una minima somma raga tipo un euro raga grazie lo stesso allora mettiamo la miniatura e iniziamo subito a a fare questi uno vi uno raga siete carichi raga perché non vi vedo carichi chat non vi vedo carichi siete carichi? ok allora io sto guardando la chat adesso scrivo la porno in chat ovviamente se l'utente non è iscritto al canale non ha lasciato like non ha attivato la campionina non può fare il uno vi uno allora sono l'unico abbonato bella ricon si bella danoc raga farò un abbonato un iscritto in chat allora raga se siete carichi raga dimostratemelo con un bel like raga forza conto su di voi raga conto su di voi ho i darti che sono l'unico abbonato ti invito subito uob allora ti chiami aspetta se mi ricordo il tuo ed ti chiamavi ah ecco ti chiamavi bud se non mi sbaglio bud la roba del genere ma non sei on fra ma forse di on no non sei on bella matte però domani posso fare un 17 bot mi da una skin non lo so aimbot raga io queste sfide non le faccio spesso raga perché se voi non venite in live è ovvio che non le faccio queste sfide raga a me serve il vostro supporto raga se voi attivate la campionina mi seguite in ogni video in ogni live io continuerò a fare queste sfide farò anche video con gli iscritti in cui regalo il pass battaglia una skin e altre cose raga dipende tutto da voi raga dal vostro supporto nelle live su instagram e su tutti i social cioè raga io non riesco a capirvi io non riesco a capirvi raga non riesco a capire perché venite solo quando regalo skin bella son Goku come stai? bella matte bella raga bella ragazzi io sono Martex raga io mito Martex perché è il migliore ovviamente preciso il migliore ragazzi preciso perché è davvero il migliore la passione per youtube raga è nata da lui raga cioè mi sono innamorato di Martex e ho iniziato a fare video mi piace tantissimo Martex veramente ho visto l'antifico e sono entrato bella aimbot il seguito è sempre per tu non mi regali il pass fra il problema ragazzi che siete in tanti raga non posso regalare ad una singola persona il pass perché poi lo vogliono tutti ragazzi siccome io non voglio che gli altri ci restano male non lo regalo ad una persona e quindi creo dei contest per provare a far vincere tutti raga capito bella stonks tu il migliore dopo di lui grazie mille leale mi raccomando ragazzi se siete le veri darkini supportatemi nelle costi oggetti di Fortnite The Dark 26.05 ogni acquisto che farete supporterete anche i messi a giorno ogni 14 giorni e soprattutto ogni volta che non potete shoppare con il mio codice creatore taggatemi nelle vostre storie Instagram oppure in un post Instagram così vi riposto nelle mie storie se avrete la possibilità di giocare con me live partecipare ai miei video e ai miei contest come si fare 1v1 allora ragazzi dovete essere iscritti al canale aver lasciato like la live e aver attivato la camprellina su tutte le notifiche certo raga tutti potete sfidarmi bella crit e best ovviamente gli abbonati avranno la precedenza in descrizione trovate il link per abbonare al canale primo link in descrizione oppure basta scrivere in chat e punto esclamativo sub perché puoi fare anche le live di pomeriggio perché io la sera non ci sono e vorrei fare mini giochi con te Junior io le live di pomeriggio le faccio su Twitch quindi se ancora non mi seguite su Twitch punto esclamativo Twitch comunque raga faccio le live per interagire al meglio con voi ragazzi quindi fatemi delle domande raga così vi rispondo ok raga se voi mi fate delle domande vi rispondo ragazzi così è come se conversassi con la chat raga cioè conversassi dal vivo con voi quindi fate delle domande così vi rispondo metti pronto fra grande Junior raga mi raccomando andatemi a seguire tutti su Twitch allora raga facciamo un abbonato ovvero web e dopo scelgo un iscritto quindi rimanete in live se volete fare l'uno più uno e let's go raga raga nuovo membro del team benvenuto davide benvenuto nei r s n raga let's go grande paura perché posso dopo che ho finito di mangiare certo litte lollo non partono i comandi eh si a 5 minuti si partono i comandi fra aspetta vediamo Twitch dovrebbe partire dovrebbe partire breve comunque quindi tipo non ci sta nella lista per fare uno di uno no fra quindi se vi va fatelo se non vi va niente a posto facciamo due round di riscaldamento perché sono freddo e poi iniziamo faccio una cosa siccome non voglio disturbarvi ragazzi io direi di abbassare tutta la chat di gioco ok tutta la chat di gioco e mettere il volume al 50% così così non disturbo nessuno eccetera certo Razer inviamola a punti schermative di bella dark noi dove stai wob wabbino wabbino ragazzi vi raccomando raga se siete nuovi iscrivetevi al canale per diventare dei darkini e far far fart della dark family grazie di cuore se lo farete raga adesso godetevi la live fino alla fine perché ci sarà da divertirsi allora due round facciamo due round e poi cinque oh cazzo ok no raga non riesco a editare da freddo non riesco a editare raga da freddo gg quante skin hai dato raga per sapere tutti i contesti che ho fatto raga andate su instagram e guardate le storie in evidenza raga ho regalato un sacco di skin raga purtroppo alcune volte ritardano raga perché ho avuto dei problemi con la carta infatti mi sono fatta la nuova carta però da ora non ritardo non ritarderanno più bella sui ma sono abbonati no anche iscritti raga faccio un abbonato in iscritto poi se volete abbonarvi per avere la precedenza primo link in descrizione donatori e abbonati avranno la precedenza nice posso fare l'1v1 con te certo leo ovviamente ragazzi per fare l'1v1 dovete essere iscritti al canale aver lasciato like aver attivato la campanellina su tutte le notifiche raga vi raccomando raga importantissimo allora io metto un attimo il telefono qua così posso leggere la chat e intanto mi impegno un po' perché non voglio farmi batte comunque raga domani escono i video delle sfide per aiutarvi a completare le sfide settimanali quindi non mancate raga domani esce il video sul canale youtube oh shit ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato oh shit gg 1 a 0 i video iscritto verso like grande driver mi raccomando attiva la campanellina per non perderti nessuna notifica raga mi raccomando andatevi a seguire su instagram facciamo una cosa raga siccome dopo faccio giocare un iscritto faccio giocare il primo che mi invia la foto su instagram in cui fa vedere che mi supporto come creatore punto esclamativo creatore in chat e punto esclamativo instagram in chat nice nice raga sono sono freddissimo bella valentino come stai dark kingon priest dark mi accetto l'amicizia appena torna i lobby accetto l'amicizia raga possono fare l'1v1 solo quelli che sono da console raga mi dispiace per i pc player ma così è troppo easy raga per i pc player battimi perché perché loro fanno tantissimi fps e sono molto più veloci di me quindi se siete da vc mi dispiace per voi raga ma ti ho fatto 30 ma vabbè dai quanto stiamo quanto stiamo chat bella marco a 2 di scaldamento non l'ho vinto io non l'ho vinto tu mi sembra bella raga bella a tutti i nuovi madonna che so freddo bella copertina effetto tu no un grafico aveva un grafico questo me l'aveva fatto il vecchio grafico ma che sto a fare la riesco a editare stasera la riesco a editare ma ti ho mandato grande pepe allora raga vediamo chi si è iscritto al canale lasciato like allora ovviamente raga già ve l'ho detto chi si abbono avrà la precedenza per partecipare al 1v1 basta essere iscritti al canale aver lasciato like aver attivato la campanellina si vabbè raga aspetta un attimo se è fermo vai si raga ma è possibile che non mi entra nemmeno hit si raga aspettate un attimo raga ritorno due secondi se è fermo va Ok ragazzi eccomi Allora vediamo Sto prendendo il garante Bella scuola Il gatto redlon No raga Ok eccomi raga Cittonato Mi son messo la magliettina raga Perché non riuscivo a giocare a petto mondo LOL Se ti batto mi regalo il pass No fra La skin Regalo la skin raga Non il pass battaglia Sto laggando Sì 200 Ma non mi puoi aspettare così Falgo mi percecca Fra C'è raga ma mi sembra normale che devo aspettare ogni volta Devo pushare io Poi non so nemmeno a quanto stiamo Boh Non si capisce Abbiamo fatto due round di riscamento Non mi ricordo che li ho vinti Che cazzo Che cazzo Ma quanto stiamo raga Non sto capendo un cazzo Già vinti lui Se non mi sbaglio Chat Chi l'ha vinti i primi due di riscaldamento Raga Perché non sto capendo quanto stiamo Io non mi ricordo raga Vedete Non meno mi build Sì vabbè Uno a te Uno a due Sì sicuro Quanti round abbiamo fatto Allora Sette Ok Posso Devinciare altri Devinciare i third round Sì vabbè raga Ma che cazzo è Che cazzo è Ha un pompo che ho fatto 200 Adesso tre card Adesso tre card Sì vabbè Sì vabbè Io faccio Tanto E lui mi fa 100 Vedete raga che culo Cioè è assurdo raga Io faccio 80 E lui mi fa 100 Io faccio 160 E lui mi fa 200 Puoi che cazzo nemmeno Non mi build Aspetta Santo Dio Sto pingando troppo Stasera Cazzo che cazzo che cazzo che non mi edito Cazzo che cazzo che non mi edito Bella Cree Aspetta Puoi parlare un attimo Wobb Sono sicuro che stai facendo giocare un tuo amico Un tuo parente Ne sono sicuro Perché col braccio rotto non puoi fare ste cose Ne sono assolutamente sicuro Grazie mille Cioè raga Non ha mai fatto ste cose Raga Col braccio rotto è impossibile fare ste cose che fa lui raga A voi sembra normale chat Cioè lui mi ha detto che il polso rotto è impossibile fare ste cose raga Starà facendo giocare un suo amico O non lo so Un suo cugino Perché non ha mai fatto ste robe raga lui Certo Danny Poi nemmeno parla Mi sa un po' di fake Boh Poi avere sta mira col polso rotto è impossibile Comunque Grazie mille the master Cioè raga quando ho avuto il braccio rotto io nemmeno riuscivo a fare una build Lui cioè sembra Ninja cioè con un braccio Cazzo è Ho dato troppi ricordi sta tavola Ho dato troppi ricordi sta davvero va la simo giarto che poi buu e dai non c'è che fare raga cosa devo fare ciò io non so che fare uno col braccio rotto secondo me non può fare se cose comunque o sarà facendo giocare qualcuno al suo posto oppure è gesù cristo con un braccio mai nemmeno so la sua voce per me è quello perché non l'ho mai fatta sentire quindi non so cioè non so che stai giocando ok ora se parli credi credi se non parlano buu vabbè dai la schinta la regala scrivimi sull'istica anche se non so crederti perché mi sembra strano col braccio rotto che fa così raga comunque raga ovviamente chi si abbona o dona avrà la precedenza quindi se volete abbonarvi primo link in descrizione ovviamente non vi obbligo per partecipare basta lasciare like iscrivetevi al canale e attivare la campbellina su tutte le notifiche dark ho le cuffie rotte I don't know I don't know ehi fra sei un iscritto è un iscritto come tutti gli altri raga mica perché avete il nome blu siete speciali oppure avete la precedenza raga siete ragazzi come tutti gli altri si guob siete carichi siete carichi io non vi vedo carichi io non vi vedo carichi ho fra donato please sa vero c'era Danny però Danny avevo detto che faccio un iscritto e un donatore abbonato quindi adesso faccio l'iscritto e dopo tocca a te fra allora 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 se siete cari ragazzi lasciate subito un bel like la live e se siete nuovi iscrivetevi al canale per diventare dei darkini e per far parte della dark family allora facciamo una cosa 55 like e scelgo uno di voi in chat e vi faccio fare l'1v1 raga vi raccomando ragazzi se siete nuovi supportatemi come creatore nel nego soggetti del dark2605 ogni acquisto che farete supporterete anche me e niente raga come si fa a fare l'1v1 per fare l'1v1 basta essere iscritto al canale aver lasciato like aver attivato la campanellina chi si abbona o dona avrà la precedenza ti posso donare grazie mille lorenzo se lo avrai ovviamente non ti obbligo però se donerai supporterà il mio canale allora 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 vizco bella bella allora facciamo una cosa raga adesso scelgo uno in chat dai ti devo dire grazie mille fra se lo farai raga raga ovviamente chi dona sia buona avrà la precedenza ovviamente non vi obbligo per partecipare raga lasciate un bel like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se volete far parte del team rns no mi dissocio io prima ho sciopato col tuo cod grande francesco ho visto infatti io penso ti ho messo anche nelle storie allora vediamo 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 raga vediamo chi scegliere vediamo chi scelgo chi scelgo vediamo allora raga io scrivo una parola in maiuscola ovviamente voi dovete scriverla in minuscolo raga così i pc player non possono fare copia e colla la parola è questa di qua raga vediamo vediamo chi la scrive per primo allora vediamo vediamo chi scrive per primo la parola ok ovviamente se siete da pc raga non potete farlo uno più uno ve lo dico raga dovete essere solo da console ok allora il primo è il primo è ale raga il primo è ale punto me l'ha inviata la richiesta fra? no raga no raga se siete da pc raga no raga se siete da pc no raga perché vincete easy raga cioè che piacere c'è giocare raga vincete easy a sto punto vi regalo la skin direttamente fate più fps pigliate i modi subito cioè raga mi dispale però nella prossima live magari farò anche uno v uno con quelli da pc e farò sfidare un mio amico da pc comunque grazie per essere passato davvero se ti va rimani fino alla fine perché ci divertiamo sempre in live magari dopo apro la lobby e facciamo un po' di zone wars un po' di box fight quindi vi raccomando rimani fino alla fine allora vediamo vediamo allora il secondo era il secondo che scrive parola era 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 vediamo vediamo chi era il secondo il secondo era palmonari grande staff grande mattia grazie mille dai raga conto su di voi raga raga ovviamente raga ovviamente faccio un abbonato ho un donatore e poi un iscritto quindi adesso è il turno dell'iscritto palmonari ci sei in chat palmonari non c'è ok allora vediamo un altro facciamo una cosa e scrivo un'altra parola raga scrivo un'altra parola in chat ovviamente raga per fare uno v uno dovete essere iscritti al canale aver lasciato like aver attivato la campbellina su tutte le notifiche raga se non avete eseguito questi passaggi vi do cinque secondi per eseguirli se volete fare l'uno v uno cinque quattro tre due uno zero ragazzi mi hai scocciato di contare mi fido di voi raga allora la prossima parola la scrivo in maiuscola ovviamente voi scrivetela in minuscola è questa di qua allora 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 Allora... Ah... vediamo chi ha scritto per primo la parola allora il primo a scrivere la parola è stato è stato è stato vediamo che è stato il primo a scrivere la parola il primo a scrivere la parola è stato Sweetney Il best supporter euro ragazzi Shoppa sempre con il mio coccidatore ogni giorno E quindi lo ringrazio Adesso lo invito E vi faccio fare L'1v1 Vi raccomando rimanete live Perché potete fare tutti l'1v1 Tranne i pc player Perché se no è easy Allora idra sweetney Idra sweetney Dove stai? Dove stai bello mio Allora Idra Non ti vedo Eccedimi Sono tornato nero Un certo driver Te lo accetto subito Tornato nero Tornato nero Eccolo qua Accettata Un certo ruolo A presto Allora Dove stai bello mio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, ma il controllo scarico. Ragazzi, odio. Avevo il controllo scarico, raga. Vado a prendere un caricabatteria. Aspettate. Aspettate un attimo. Aspettate un attimo. Aspettate un attimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccolo qua. Grazie mille, Trazer. Accetta le richieste di emisizia? Certo, Ciro. Basta che mi supporti come creatore e mi invia la foto di Instagram. Bella, Fra. Ok, raga. Buon live sul canale YouTube per fare un video con voi. E chi vince riceve una skin. Ecco fatto, raga. Pubblicato la storia su... Su Insta... Binky in bio canale. Ok, raga. Dopo di questo faccio giocare altri, quindi vi raccomando. Facciate un bel like. Adesso leggo la chat. Ascrivetevi al canale per diventare di Darkin e per far parte della Dark Family. Mi raccomando, raga. Mi raccomando, raga. Fatelo, perché è importantissimo. Ecco qua. Andiamo sull'Exit. Adesso leggo la chat. Vabbè, Paolo. Vabbè, Cristian. Son Goku, non mi piacciono le sfidate. Poi la Darkin dice l'ho fatta ieri, raga. Cioè, vedete cosa vi perdete, ragazzi. Volete fare un contenuto? Volete fare la Darkin dice che io l'ho fatta ieri, raga. Perché ieri non siete venuti in live? Spiegatemi adesso perché non siete venuti. Io le faccio, ste cose, raga. Ma voi non ci siete mai? Non ricevo mai supporto. Se non ricevo supporto, non le faccio le cose, raga. Se voi non mi supportate, facciamo comunque due round di riscaldamento. GG. Ma mica perché non puoi giocare alla Playfra non devi venire in live, raga. Io sta cosa non capisco. Se non potete giocare, oppure non vi faccio giocare, vero andate dalla live. Perché venite solo per giocare, raga? Io non capisco. Aspetta un attimo, aspetta. Palle, ste cuffie. Io sta cosa non la capisco, raga. Se non potete giocare, oppure non vi faccio giocare, non venite in live. Che iscritti siete, raga? Mi spiegate che iscritti siete? Cioè, voi non capite l'impegno che ci metto a fare in ogni live, io. Però, fate come volete. Io non ci perdo niente. Io non ci perdo niente. 200 Mi gioco, ma sto sempre in live per te. Grazie mille, Valentino. Tu sei che sei un radar chino. Bene, che si do. Eh, non lo capiscono, Zesk. Non capiscono che io faccio... Non mi prendo impegni per fare le live alle 21 di pomeriggio. Non lo capiscono, fra... Io... Più di questo, raga. Cioè, non posso fare. Gioco con gli iscritti, oh. Faccio live alle ore 21. Non mi fighi impegni per farvi divertire. Vabbè, voi ve ne fregate, quindi. È inutile. Dirvi sta cosa in live. Ve ne fregate. Che ve frega voi. Non ci perdete niente. Io sono sicuro che voi appena vedete la notifica del live, dite no. Non è regalo schieno, serve privati. Non venite in live. È sicuro così. Perché appena vedete un titolo diverso, non venite. Beh, c'è lo stesso, Valentino. Certo, Exit. Io non capisco sta cosa, raga. Ho sbagliato. Oh, shit. 200. Sono andato male. 1-0. Ciro, punti scommati per io, creatore in chat. Stasera non riesco a giocare, raga. Oh, shit. Qua l'ho rischiata di brutto. Sì che è baraga, il bot dovrebbe andare. Comunque, raga, lasciate un bel like per supportare la live. Sì, venti. Sì, venti. Soprattutto, sì, qualcosa. Sì, venti. Scittone Cioè raga ma mica lo dovete fare per me Io vi sto credendo solo Di supportarmi nelle live In tutte le live Come faccio a crescere il canale se nessuno mi supporta E mi seguite solo per un contenuto Me lo spiegate ragazzi Oppure faccio le magie e cresco di canale Chiamo Babbo Natale Gli dico per Natale vorrei arrivare Ai 100k Secondo voi ci arrivo? No Perché mi serve il vostro supporto in ogni live Beh la pesca Diciamo scaldato Ancora sono freddo Guardi che non riesco a digitare Cittone Domani raga Con i video delle settimane Delle sfide settimanali Ragazzi stagione Settimana 2 Le sfide della settimana 2 Quindi non perdete Attivate la campelina Perché Porto tutte Tutte le sfide ragazzi Come completare Quella è tutto Quindi vi raccomando Vabbè non riesco a digitare Sono ancora freddo Bella Tiri al Gabbo Come stai? Raga vi raccomando Se ancora non mi seguite su Instagram Andatemi a seguire raga E ogni acquisto che farete Con il mio consigliatore Taggatemi nelle vostre storie E vabbè non mi edito Oh raga Cittoned Oh shit E' finito ragazzi GG Bravo shit Ancora so freddo raga Mi serve qualcun altro Per riscaldarmi al meglio Ah finalmente uno che scapisce Finalmente uno che capisce Se gioco Non posso leggere le chat Finalmente qualcuno che capisce ragazzi Finalmente qualcuno ci è arrivato Finalmente qualcuno Si è svegliato No vi dissocio Vi voglio bene raga Pesca possono giocare solo i console player Allora raga per partecipare Basta lasciare un bel like La live Iscrivetevi al canale Con la campanellina attiva Su tutte le notifiche E supportarmi come creatore Così che vi accetti la richiesta Raga Quindi supportatemi tutti Intanto a me si è tolto Non so come però Rimettetelo insieme a me Raga vi raccomando TheDark2605 Ogni acquisto che farete Supporterete anche MS Il giorno Ogni 14 giorni Quindi dovete rinserirlo E ogni acquisto che farete Taggatemi Nelle vostre storie Instagram Per essere ripostati E avere La possibilità di giocare con me in live Partecipare ai miei video E ai miei contest Adesso tocca a Danny Perché ha donato un euro Quindi se volete donare O abbonarvi al canale Avrete la precedenza Come Danny Vediamo Danny Uuuuh Grazie mille Sweetney Attenzione raga Grazie mille Sweetney Vediamo cosa ci regala Attenzione Marcia polare raga Nice Guardate che Che faccia Oh Nice Grazie mille Alla prossima Sweetney Ricorda Sei il best supporter In EU Grazie mille bro Allora Danny Ti ho inviato Danny ti devo rinviare Ah ti devo rinvitare Ok Danny 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 Eccolo qua Danny Invitiamolo Eccolo qua Grazie ancora Sweetney Danny ti ho Ti ho invitato Ti ho rinvitato anche Eccolo 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 qua Il nostro Danny Allora dai ragazzi Riusciamo ad arrivare 60 like Raga I'm cut Ok Allora vediamo Vediamo chi ci sta in live Bella Wolf Diego No raga No raga invito solo quelli Che donano Sia buona raga Poi Per gli iscritti Basta inserire la parola in chat Che scriverò io Il primo che la scrive Verrà invitato Bella Matteo Bella raga Allora raga Mi raccomando raga Per fare un nuovo video Basta lasciare un bel like Alla live Iscrivetevi al canale E attivare la camprellina Su tutte le notifiche Per non perdervi nessuna notifica Mi raccomando raga Vi do 5 secondi Per lasciare like Iscrivetevi al canale E attivare la camprellina Su tutte le notifiche 5 Andate sul mio profilo Instagram Cliccate il link Che trovate in bio E il conico dice sconto Dark88YT Tutto minuscolo Attaccato Avrete il 10% Di sconto Grazie di cuore Se lo farete E niente raga Vi raccomando Andatemi anche a seguire Su Instagram Punto isclamativo Instagram Grazie di cuore Cambia squadra Allora Leggiamo un attimo Jatt Vediamo Cambia squadra Bella Chaos Tutto bene Tu Ok Avviamo Come Valentino Di già Ragazzi Sono caldissimo Scittono tutti Adesso Ok Badai ahhhhhhhhhhh shit Madonna raga L'ho scittonato come un tonno Porca miseria raga No l'ho missato E' potuto Oh vabbè non mi entro in hit Piccone 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 non scapparmi Vestelina non scapparmi Brutta bestiolina come è stato scappare Raga adesso la leggo la chat raga scusate Scittonato sorry fra ho sbagliato Ho sbagliato emot non volevo Sorry fra scusami davvero Raga appena mi riscaldo Vedrete il console player più forti in ita che c'è in me raga Quindi preparatevi raga Vi sfido tutti raga vi sfido tutti Madonna porca miseria Dai fra però così no dai Nice No vabbè perché mi fa stai mot Non volevo Bella Giovanni Dark domani mattina devo lavorare per te Faccio attenzione adesso Grazie mille Valentino Cuoricino Mi raccomando scrivimi su Instagram E così ci attiamo insieme Vai che mi stai simpatico Oh shit Che botta raga Che botta Ho sbagliato Ho sbagliato Bella Leo Dark esecito a fare quelle motte LOL Raga volete che 3 add chat Ditemi poi raga Faccio un round seriamente Chat Che ne dite chat O gli devo far vincere la skin raga Io faccio parte della gang Di Sabo No 40 Che ho fatto Dai dal prossimo gioco seriamente Raga vi raccomando Lasciate un bel like Per diventare dei darkini Ma che ne so ragazzi Allora Svei E' venuto in live Mi ha chiesto se poteva giocare Gli ho detto di aspettare il turno E se n'è andato Oh shit Oh shit Shit Ho andato come un tonno ragazzi Distrutto raga E vabbè non mi pilla E vabbè non mi fai E vabbè non mi fai Sto giocando un po' male Perché sto a leggere la chat E vabbè non mi fai che ha she done raga se smettessi di leggere la chat farei 0 di pinga oh shit no ho sbagliato penso fosse white infatti per questo l'ho pushato ora facciamo l'ultimo purtroppo mi dispergo la tema sto vincendo ah ah nooo così no fra però vale oh sono iniziato tre anni fa se non mi sbaglio ho iniziato due stati fa si due stati fa a fare live facciamo l'ultimo chill perché ho mai perso mi dispiace per te fra però visto che hai donato facciamo l'ultimo chill questa volta gioco seriamente e vabbè cheat gioco seriamente ragazzi gioco seriamente tranquilli di socia di socia da quello che sto facendo no ho sbagliato gg lo stesso gg lo stesso cheat ragazzi gioco seriamente questa l'ho failata gg lo stesso danny grazie ancora per la donation mi raccomando non mancare nelle persone live buh ragazzi se no non riesco a giocare ho il ping perché sto a fare la live quindi non riesco a giocare però vi giuro raga quando gioco live gioco più carico i don't not please watch follow me grazie mille xd luca è luigi scusa vado perché viene luca grande sweet aspetto di una sorpresa non so chi sei perché hai cambiato nome oh muchas gracias uob vediamo vediamo cosa mi rega oh shit grazie mille uob grazie di cuore un bacione dal mitico dark 88 grazie mille purtroppo quasi è buggata grazie mille fra vediamo che è bella guardate guardatela mettiamola 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 allora mettiamoci anche la mimetica mettiamola sul pompa va mettiamola sul pompa si la mimetica che ci ha regalato esattamente uob grazie di cuore uobbetto alla prossima Danny grazie mille per aver partecipato grazie mille per la donation vado ragazzi grazie mille mettiamoci un piccone che si addice a quella skin vediamo vediamo che piccone ci mettiamo raga come si chiama se skin aspetta è già da rosso ok ci sta un bel piccone rosso piccone rosso allora raga comunque se volete vedere la mia mezza faccia raga perché ho mostrato un po' la face andate a guardare su instagram mettiamo mettiamo questo dai allora vediamo chi far giocare vediamo chi far giocare chi far giocare adesso vediamo raga vi ricordo che chi si abbona odona avrà la precedenza di fare l'1v1 eh Zwei ma te vieni solo per giocare scusa Zwei raga posso giocare solo quelli da console mi dispiace per quelli da pc ma magari nella prossima live porterò un player molto conosciuto e ve lo farò sfidare chi lo batterà riceverà eh una skin mi dispiace Bob ma tu se non mi sbaglio sei da pc dark metti la mazza di Alde Queen non ci sta con giada rossa secondo me ci sarebbe il piccone della skin quella ninja secondo me vediamo questo ci aspetta vediamo aspetta aspetta devo avere un piccone che ci sta pennello questo piccone non l'ho mai usato dispiccone mi dispiace perchè Bob possono giocare solo quelli da console fra allora raga allora raga per partecipare basta lasciare un like la live iscrivete al canale e attivare la camprellina su tutte le notifiche vi do 5 secondi per fare questi passaggi da adesso 5 4 3 2 1 mi è scocciato di contare mi fido di voi ragazzuoli vi ricordo che tutti quelli che si iscrivono al canale diventano dei darkini e faranno parte della dark family grazie di cuore se lo farete allora facciamo facciamo una cosa il primo che mi va a seguire su instagram ovviamente il primo che mi va a seguire su instagram e mi invia la foto del codice creatore adesso verrà a giocare farà l'uno vieno con me grazie mille leo benvenuto nella dark family andiamo andiamo a guardare andiamo a guardare no comunque grazie mille web davvero grazie mille andiamo a guardare instagram grazie di cuore web vabbè perchè già mi segue raga basta inviarmi la foto del codice creatore ragazzi se volete vedere la mia face andate a guardare andate a guardare il mio ultimo post su instagram allora lorenzo grosso chi me l'ha inviata per prima allora vediamo ora 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 vediamo il primo è stato son goku ragazzi il primo è stato son goku mi ha inviato la foto del codice creatore tre minuti fa raga ci stai ci stai in chat son goku leo punto schermativo creatore in chat se non ci sta scelgo un altro raga ok c'è son goku ragazzi eh non posso farci niente si sarà buggato allora c'è son goku son goku dimmi il tuo id così ti invito raga vi raccomando a turno farete tutti l'1v1 quindi non vi scoraggiate 1v1 sono una ragazza anche se sei una ragazza a me poco importa perché sei un iscritto come tutti gli altri comunque se vuoi fare l'1v1 iscriviti al canale attiva la campanellina e lascia un bel like grazie di cuore se lo farai va bene driver allora son goku dimmi il tuo id allora tml rosso ok ti invito subito allora tml eccolo qua ma danny l'avevo detto che erano di riscaldamento però poi ho vinto io fra ciò tml ok e ok ringrazio leo per avermi seguito su instagram grazie son goku ringrazio power pet grazie di cuore Per avermi seguito su Instagram Vi raccomando Devemi seguire anche voi su Instagram Per essere salutati Punto iscamativo Instagram in chat Se va Oppure raga Eeeh Allora raga Il codice creatore È TheDark2605 Quello che sta scrivendo Web Invece il mio Instagram È YTDark88 Purtroppo il bot Stasera non funziona Non posso farci niente Mi dispiace raga Ok Stiamo pronto Intanto Provo la skin Che mi ha regalato Web Mettiamo Vediamo Uh Che regale Vediamo che Che dorso ci potrebbe stare Questo ci sta un fottio raga Che bello Aspetta Uh Grazie mille Rocksox Ma stasera che è raga Serata regali Fragolina Rimbalgina Grazie mille Che carina Grazie mille Grazie mille Broderino Serata regali Grazie mille Rocksox Certo leo Serata regali Che è stasera raga Lol Be' raga Galaxy Serata regali Check Raga Raga Mi raccomando Lasciate un bel like Se la live Vi sta piacendo E vi ricordo Di seguirmi in ogni live Perché in ogni live Ci divertiamo E soprattutto Gioco sempre con gli iscritti Il prossimo posso essere io Vediamo leo Raga Vi ricordo Che chi dona O si abbona Avrà la precedenza Quindi se volete donare Accanto al chat Trovate la super chat Oppure in descrizione Trovate il link Paypal O strillaps Invece se volete abbonarvi Trovate il link In descrizione Ok vieni qua Proviamo già da rossa Grazie ancora Wob Apriamo Che carino Che carino Cazzimile Exid Luigi Ma non hai cambiato squadra Aspetta Aspetta Adesso vado a vedere Leone Aspetta che termino Ah ma Hai startato tu Devi terminare tu Level Medi epic Moderatori Iscrivete dove lo vuoi Per favore Termina Termina Terminato Ok E' terminato Mi sa che è terminato Ah no Non è terminato Non c'entro Assimile Wob Ok raga Con la mappa Fragolina Rimbalzina Grande Raga dai Condividete la live Con tutti i vostri amici Per far provare Anche i vostri amici La skin Per provare a far vincere Anche i vostri amici La skin Vi raccomando Oh Shit Raga Lo shit È andato male Qua raga Mi è entrato Un 200 Porca miseria Shit È andato male Fra Mi sa che sto 200 Se lo ricorderà A vita Raga GG Fra Da adesso iniziano Quelli seri Mi raccomando Raga Un like Un 200 Raga Un like Un 200 Raga Forza Ogni like Facciamo un 200 Nice Siamo soli A parte il cane A parte il quadro Quello orrendo Di tua madre La camicia Sa di fumo Di cadrame Siamo attaccati Ma mi manchi Come il pane Non sopporto Non sopporto Quando metti a posto Le spigoli Mi cassa ancora Nella testo Ancora Penso Un po' Il per Che Non sopporto Gigi Nella testo Ancora Penso Un po' Il perchè Non so Aspetta un attimo Fra Non mi sparare Non mi sparare Non mi sparare Stai fermo un attimo Se legge la chat Questa kill La dedica a Valentino Che anche se deve Staccare alle 11 Stacca alle 11 e mezza Per me Nice Invece Questa kill A chi la dedico Vediamo Fatemi Penso un po' Vediamo A chi la dedico Fabio Punto Esclamative Dince No scherzo Non funziona I comandi Non funziona Porca miseria Dai Questa kill Ha da le ale Oh shit GG Dopo questo C'è abbonati Iscritti Se è iscritti Posso io Vediamo Traiz Raga potete giocare tutti Raga basta che lasciate un bel like Siete iscritti al canale E soprattutto Raga se volete Darmi una mano A crescere il canale Condividete la live Con tutti i suoi amici Allora questo è chi la dedico Vediamo Anche se Sto giocando di merda Dai Prova a vincerla A chi la dedico A chi la dedico A chi la dedico Questa Oh nessuno Raga Mi ha fatto 200 Dai La prossima La prossima La dedico A Guob Che mi ha regalato Questa fantastica skin Oh shit GG Grande Dryzer Grazie mille Broderino Mi raccomando Ti aspetto Nelle prossime live Allora GG Rocksox Sei stato molto bravo Ti ringrazio ancora Per il balletto E mi raccomando Continua a supportarmi Perché in ogni live Gioco sempre con gli iscritti E niente bro Ti aspetto in live Bella Posso 9v1 Allora raga Per partecipare Agli 1v1 Basta essere iscritti Al canale E aver lasciato like E aver attivato La campanellina Grazie di cuore Se lo farete Allora 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 Siamo in 17 Raga Condividetela live Con tutti i suoi amici Se ancora non l'avete fatto Ma Leo Sei da pc Vediamo Sviti Alla prossima Grazie mille Ti aspetto in live Rosso Allora Bella exploit Allora Posso farlo io Allora ragazzi Per farlo Basta essere iscritti Al canale E attivare la campanellina Sì Ale Ale Sì Ale Ale Riceverete la skin Scusami davvero Per il ritardo Fra ma Purtroppo Ho avuto dei problemi Con la carta Adesso sto risolvendo E l'IP Games Appena mi paga Riceverete tutti la skin Tutti quelli che hanno vinto I miei contest Ovvero Tre persone Domani Wob Domani O dopo domani Te lo do Sei tu Questo cosa Scritto in cinese Sì Sei questo Aspettiamo Io la ricassa Ok Allora ragazzi Adesso vi spammo I miei di epic Purtroppo Stasera Il bot è Buggato Raga Quindi Anche se scrivete Punto esclamativo Id Raga Non vi darà Dd Raga Perché il bot è Buggato Non so Come però è Buggato Adesso si è Sbagato Si è Sbagato Adesso 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 Va Raga Finalmente Si è Sbagato Si Ok Invitiamolo Dark Diablo Eccolo qua Invita Raga Turno lo fate tutti L'uno V'uno Tranquilli Dimmi Pierecca Dimmi tutto Ti ho letto Prima Ti ho salutato Pierecca Faccio Un abbonato E un iscritto Quindi devi aspettare Fra Bella Fra Senti pronto Vediamo Vediamo cosa c'è Nel shop Perché non l'ho guardato Attentamente Mettiamo qui Allora Giada rossa Che ringrazio Quella web Per avermela regalata Oh ma Da quanto tempo Non riusciva Sto schiena Raga Autociclista Poi questi due Badri regalati Grazie mille Ehm Lo c'è fluid Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Piccone con lo scuolo Ci sta Raga vi ricordo Che domani Usciranno Una tonnellata Di video Per la settimana Due Quindi non perdeteveli Attiva Tre camprellina E ti raccomando Massimo supporto Domani Raga Certo Exid Luigi Certo Ok Mettiamo l'isola Quanti punti hai in arena C'è Quasi 3500 Oggi ho avuto Una sfiga Raga Una sfiga assurda Cambia squadra Cheat Cheat DG Anzi perché è grande Monica Grandissima Sono sera 16 anni Auguri allora Grande leale Raga sto giocando di merda stasera Non riesco proprio a giocare Vedete posso Ma che quando lo mi dai Vediamo vediamo Forse è uno psycho non lo so Ma è tuo ma è tuo Oh mio dio 200 raga Io ve l'ho detto raga Ogni like che lasciate un 200 Questa kill la dedico Al grandissimo Al grandissimo Francesco Cesare Amodeo Che mi supporta in ogni live Mi aiuta a gestire la chat ogni volta 40 40 Matico Un'altra E' Matico 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 Intento Grazie a tutti No, GG Ma quanto stiamo? Quanto stiamo, raga? Se ci stanno abbonati alle aree, ovviamente Se non ci stanno... Più viene scritto Vabbè, mi edito Ma che fai? Sì, vabbè, raga Sì, vabbè, 180, che ho fatto? Raga, devo togliere un attimo la chat Non riesco ad impegnarmi, se no Togliamo il caricabattery No, non riesco ad impegnare un attimo la chat Ok, nice No, non riesco ad impegnare un attimo la chat usci torrent ok forse siamo due a due se non mi sbaglio raga non mi edita però ok Grazie a tutti. Grazie. Non ci credo, raga. Pensavo fosse mio il muro, GG. C'è tornato, ragazzi. Vedete cosa fa il Dark Core nazionale quando gioca sul serio? GG. Sperta un attimo. Sperta un attimo. Sperta un attimo. Ok. Lo sapevo. Nice, ragazzi. Fa sempre le stesse mosse, raga. Quindi ho... Prefaito ho fatto. No. No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. GG. E abbiamo vinto ragazzi. E abbiamo vinto. Quanto stiamo? Ok. L'ultimo round. L'ultimo round. Non potevo farci niente. Mi ha fatto 190. Porca miseria. Si arriva a 6 comunque adesso. Cioè raga mi ha fatto 190. anni fa. Si arriva a 9. No. 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 Grazie a tutti. Non mi corre. Certo Thomas. Certo Thomas. Certo Thomas. Certo Thomas. Quanto siamo raga? Certo Thomas. Certo Thomas. 5 a 5. Si arriva a 7. Certo Thomas. Certo Thomas. Raga questo mi sta facendo sudare eh. Adesso guardo seriamente. SORRY. GG lo stesso. Bravo 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 bravissimo anzi mi raccomando continua a seguirmi se è stato bravo e GG. Sì. Sì ma siccome stavamo in pareggio le ale abbiamo detto che si arrivava a 7. capito. Comunque raga stasera proprio non riesco a giocare. sono proprio freddo. grazie a tutti. Grazie a tutti. partecipate. Se ho partecipato e mi raccontro è stato in fretta e mi raccomando. Mi raccomando ti aspetto nelle prossime live. Non mancare perché ci divertiremo tantissimo. Faccio zone wars, mini giochi in creativa, box fight e molte altre cose. E niente, io ti auguro una buonanotte E ti rassicurami di dare live, bella boys Allora Dark, verso chi era stacchi Verso le undici e mezzo, credo Facciamo una cosa, ragazzi 80 like E scelgo il prossimo da far giocare Forza, raga Conto su di voi, raga Allora, aspetta che Aspettate un attimo, raga Non mi fa leggere chat Ok, adesso sì Vediamo Vi raccomando, raga Codicitatore del nego soggetti Fra, se dono 200 posso Eh sì, fra Subito, entri subito Cioè, se doni 200 sei un grande, fra Ti ringrazio di cuore E riceverai il mio numero Ovviamente Ovviamente non ti obbligo Perché È una somma davvero Assurda E secondo me Nessuno Ha il coraggio di sparare Però Non obbligo Nessuno, raga Ma se da MK Non sono da console Bella Ci siamo Beh Deteli Sì, vabbè Non li donerei mai Fra sti 500 Siete tutti Parla, parla No, mi dissocio Bella Willian Sì, Alfa Non ci crederò mai Nella vita Fino a quando Non lo farai Non ci crederò Se poi lo fai Cioè Sei proprio Un po' assurdo Bella Tenergia Raga Ma non lo farà mai Raga Sono tutti Parla, parla Come il ragazzo Di altre volte Il ragazzo Di altre volte Diceva Spammate Hashtag Rosso In chat E poi Non ha fatto Niente Cioè Poi se lo fa Raga Cioè Assurdo Certo Thomas Bella Daniele Allora Facciamo fare a caccia Che sta aspettando Anzi Aspetta Non lo farà mai Raga Inutile Spammare Oh Esatto Leale Tutti così La vittoria reale Non ha fatto Niente Raga Pierecca Ma mi spieghi Una cosa Pierecca Ma te vieni Solo per giocare Cioè Se è entrato In live Subito Posso giocare S 살�o Abbiamo Un'altra cosa Sì E' entrambiente Che è entrambiente e ter live scrive posso giocare tutto il tempo vedete ragazzi non li ha donati quindi se è fake vedete questi sono bimbi pan di stelle come bambino di l'altra volta scrive hashtag rosso e dono citto no alfa non faccio assassino questa meme essere presi in giro così raga